Limitato al minimo, verosimilmente l'avvicendamento per il Montevarchi per l'impegno interno contro la Sinalunghese in anticipo rispetto all'uscita di Ponte Aegola di domenica scorsa. L'unico cambio al momento, infortuni ed influenze dell'ultimo minuto a parte, dovrebbe essere quello dell'impegno di Rialti per Lischi, che ancora non ha smaltito una brutta botta rimediata proprio nella bella vittoria sul terreno del tutto cuoio. Così ecco una sorta di albero di Natale o 4-3-2-1, stando ai numeri con Tegli in porta, Ascitto, Gnarelli, Zini e Rialti sulla linea difensiva, Mannella, Donatini e Biagi in mediana, Di Arrasuva e Masini sulle corsie esterne in avanti a fianco di Essussi. Questo è quanto trapelato dagli allenamenti della settimana, visto che ancora non appare recuperabile a Matucci, essenziale anche per il gioco delle quote. Due soli precedenti, entrambi in eccellenza al Brilli Peri per le sfide contro la Sinalunghese, per l'Aquila si registrano una vittoria, per 1-0 ed un pari 2-2. In ogni caso è questa l'occasione per rilanciarsi definitivamente per lo sprint playoff dopo l'ufficializzazione della conferma delle regole della scorsa stagione che non prevedono seguito rispetto agli spareggi del singolo girone. Dirige il match Marco Peletti della sezione di crema, prima disegnazione per lui per il rosso-blu.